Amici iniziamo con 105 NET EXPRESS Hello, hello, hello Hello, buonasera, buonasera amici belli, come state? Benvenuti questa è 105 NET EXPRESS Cosa ridi Socio? Adesso è una sirena Oggi so così, oggi sono un fiore Come la mia maglietta, che non so se si vede Stupendo, cioè sembri nascosta dietro un'enorme conchiglia